E' il mio io che cerca di riprodursi. La via mistica attraverso Marco, a cura di VB. Frate Bernardo, Altissimo Signore, mostrami la tua via, mostrami i tuoi pensieri, mostrami i tuoi desideri, mostrami le tue emozioni, le tue potestà, le tue ricchezze. Dove devo cercarti? Dove trovarti? Oh Signore, molto spesso ti cerco nei miei fratelli, volendo carpire da loro parole di conforto, di consolazione, di gioia, volendo che loro, come me umani, risolvano o mi aiutino a risolvere i miei problemi. Se rispetto l'insegnamento del conosci te stesso, è solo ponendomi una meta, quella di conoscermi, rinnegando così l'insegnamento stesso. Se amo i miei fratelli, lo faccio per pochi istanti, è solo per accrescere me stesso, e se poi li rispetto, lo faccio sovente allo scopo di ottenere da loro quello stesso mio, così condizionato rispetto, se non addirittura gratitudine o reverenza. Se li ascolto, è perché li ritengo saggi, e li ritengo saggi non perché dicono la verità, ma perché dicono la mia verità. Se li ritengo degni di essermi amici, è solo perché mi illudo che siano uguali a me. È il mio io che cerca se stesso, che cerca di riprodursi, che cerca di perpetuarsi dopo la morte e durante la vita. E' il mio io che, consapevole della propria caducità, o Signore, tende a trovare chi lo continui, chi lo divulghi, chi sia in qualche modo il suo rappresentante ufficiale. Così, Signore, io ti cerco, e così cerco i miei fratelli. Fa che non mi trattenga più oltre nel mondo delle apparenze, o Signore, e che comprenda la vacuità di tutto questo, ascoltando ciò che viene dai miei fratelli maggiori, sotto forma di pensieri, di amore e di messaggi. Amen, amen, amen. Fiat. Frate Bernardo vi saluta. Pax vobiscum in nomine Domini. Grazie. 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 Grazie.